Alla scena degli ultimi anche gli amministratori, Oscar Pisani, il sindaco Emma Trinchillo, Francesca Nastro e il vice sindaco Pasquale Napolano, ossia The King, guarda che gioia, The King non è una cattiva parola, non è una parolaccia, The King. Vedi? Anche il nostro grande Bruno Giaquinto ha detto stampa, che è? Ma la testa Bruno? Un po' timido eh? Ma Oscar che cosa si prova in questi momenti? Ti senti fortunato, ti senti fortunato, dobbiamo imparare a condividere di più, è meglio, è una riflessione personale. Quindi sei d'accordo che la Chiesa è un vero punto di aggregazione? La Chiesa deve essere insieme all'amministrazione della cultura di economia. Grazie, grazie. E Don Ciro è il punto. E uno dei tutti.